Ciao ragazzi, in questo video vediamo un esperimento di fisica sorprendente realizzato con Human Safari. Per realizzare l'esperimento utilizzeremo alcuni anelli di metallo e una bobina di filo di rame appositamente costruita. Come potete vedere, quando mettiamo uno degli anelli metallici sul dispositivo e forniamo corrente, l'anello salta bruscamente verso l'alto. Volendo cercare di semplificare al massimo, questo accade perché quando la corrente inizia a scorrere nella bobina succedono due cose. Innanzitutto nasce un campo magnetico all'interno della bobina stessa che la rende simile ad una calamita e inoltre nasce una corrente elettrica nell'anello. Di conseguenza anche l'anello comincia a comportarsi in maniera simile ad una calamita, ma con i poli invertiti rispetto all'altra. La repulsione che ne consegue riesce addirittura a farlo soltare bruscamente, come potete osservare in questo slow motion. Va detto che alcuni dettagli di questo esperimento non sono banali e quindi qui abbiamo cercato di darne una spiegazione essenziale. Per una trattazione più approfondita potete consultare il link qui sulla destra. Come sempre, se vi piacciono questi esperimenti ricordatevi di mettere mi piace, passate a trovarmi su Facebook ed Instagram e se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale dove presto arriveranno moltissimi altri video.